Tiziano buongiorno ti ho coinvolto per questo nuovo progetto anzi che nasce poi da una serie di confronti che abbiamo avuto perché andando a visitare molti clienti che hanno anche ospitalità quindi agriturismi centri benessere resort dove stiamo facendo progetti rigenerativi e di creazione di aree forestali o anche di terapia forestale piuttosto che di produzione di cibo altamente energetico ci viene richiesto di fare una valutazione della casa quindi abbiamo fondamentalmente creato questo percorso per esperti in salute dell'habitat check up casa ecco magari se vuoi aggiungere due parole Guarda viene questo come sai dalla mia lunga esperienza all'insegnamento di queste cose abbiamo visto come tu dicevi parlando anche con alcune delle persone che abbiamo formato già nel discorso dell'agricoltura vibrazionale abbiamo visto quanto questa richiesta sia alta quindi visto che le competenze ci sono io sono più di 23 anni che mi occupo di questi aspetti sia come geometra sia come tecnico dell'ambiente tu ci sei già dentro da un certo periodo poi abbiamo coinvolto anche un amico che è l'architetto Luca Maria Lavezzi in questa maniera siamo in grado di dare uno spettro proprio di formazione alle persone che vogliono fare questo lavoro seriamente con l'utile di imparare a utilizzare gli strumenti le misure eccetera quindi quello che stiamo tentando di fare a me piace molto ecco e sono convinto che sarà molto utile ma lo vedo in pratica sta diventando veramente sempre più richiesto perché come ti immagini chi fa ospitalità, gli agriturismi, i resort, i centri benessere comunque la maggior parte dei clienti che abbiamo vogliono stare bene in generale quindi vogliono mangiare bene, vogliono stare in un bell'ambiente e quindi lavoriamo fuori ma lavoriamo anche dentro sì e l'ambiente oltre che bello deve essere sano bene quindi andiamo a vedere cosa proponiamo all'interno di questo percorso, di questo nuovo progetto quindi inquinamento elettromagnetico, sono tre incontri di due ore facciamo tutto online, basi teoriche, effetti sulla salute, problemi all'interno della casa strumenti e soluzioni quindi ogni volta andiamo a toccare qual è tutta la teoria quali sono gli effetti, quali sono le storie, casi reali e soprattutto come possiamo misurare e come intervenire ogni volta è tutto molto pratico, un sacco di documentazione per ogni puntata qui facciamo tre incontri da due ore poi passiamo a radioattività, un incontro di due ore quindi che cos'è il gas radon, come si manifesta, radioattività dei materiali e ancora una volta come misuro, strumenti, tecniche e anche qua come posso intervenire per sistemare poi abbiamo il tema di inquinamento indoor qua sono due incontri da due ore quindi quali sono le basi la BC di questo inquinamento interno inquinamento chimico, fisico, biologico ancora una volta come misuro e come posso sistemare e mettere in ordine poi passiamo alla parte di geobiologia che è compresa nel corso, ci tengo a dirlo perché tutto il lavoro fatto precedentemente sarà messo a disposizione il corso intero di geobiologia è fondamentale per poter affrontare anche la parte interna e qui i partecipanti avranno accesso al corso e avranno accesso anche al test per diplomarsi per avere l'attestato di geobiologo faremo un riepilogo veloce delle geopatie metodi di rilievo e test sulle persone attraverso test diciamo kinesiologiche aura, chakra, prove di forza e ancora una volta tutto questo con delle soluzioni poi andremo a toccare il tema dei materiali e le loro caratteristiche come sappiamo ogni materiale ha delle vibrazioni ha delle frequenze emette un campo energetico e queste informazioni devono essere note e devono essere compatibili con la nostra salute qui anche qua andremo a descrivere quali sono le tecniche quali sono i materiali più usati quali possono essere controindicazioni e ancora una volta misure e soluzioni poi ci sarà un tema di acqua come sappiamo l'acqua è un elemento importantissimo nel nostro corpo e qui abbiamo due incontri di due ore quindi come si fanno a misurare le acque quali sono le caratteristiche quali sono appunto ancora una volta gli strumenti e le soluzioni impianti, salute, come poter migliorare l'acqua da tecniche semplici a tecniche un po' più evolute e professionali poi c'è un tema che porterà avanti l'architetto il bioarchitetto quindi grazie a Luca tre incontri di due ore che cos'è il Feng Shui autentico la ricerca dello Shang Ki e la scuola della forma attraverso posizione di protezione evitando le frecce quindi entriamo in un mondo un po' più di architettura ma è tutto collegato infine c'è un tema di relazione e resa grafica nel senso che una volta che io ho fatto tutte queste indagini in un'abitazione in un agriturismo in un resort in un luogo che voglio portare a un ottimo livello di salute energetico dovrò poi redigere una relazione e spiegarla anche ai miei clienti quindi andremo a fare un incontro dove vi spieghiamo come impostare tutta la presentazione come impostare una planimetria e come spiegare poi quali sono le soluzioni adottate caso per caso ci sarà poi a parte anche di lezioni dal vivo fondamentale come tutte le volte quindi dopo un percorso online abbastanza intenso faremo due giornate con delle prove pratiche che andranno a toccare tutti gli argomenti delle tematiche quindi rilievi geobiologici radioattività misurazione degli inquinanti e prove di Feng Shui ci sono poi degli esami che sono previsti degli esami quindi per ogni materia avremo degli esami teorici online e su questo ci aiuta la piattaforma digitale che abbiamo utilizzato per l'Accademia di Agricoltura Vibrazionale Energetica e poi avremo un incontro con un esame pratico di una giornata per cui abbondante spazio per la parte pratica quindi ripilogando 18 lezioni online di due ore tutto il materiale due giorni di lezioni dal vivo frontali e un giorno per gli esami per un impegno complessivo di 52 ore con tutto il materiale di studio filmati tutorial inclusi ovviamente come dicevo il corso di geobiologia completo a questo punto Tiziano ti darei la parola per entrare un po' più nel vivo perché è una storia che tu hai portato avanti oramai da 20 anni e quindi vorrei che ci raccontassi come è partita e come la possiamo impiegare attualmente grazie Tiziano no grazie a te per l'introduzione molto interessante di tutti i dati che hai fornito e io qui ho messo un mio volantino che risale al 2003 come vedete io questa roba ho cominciato a fare un check up della casa nel 2003 già stavo facendo più o meno quelle cose di cui vi sto parlando questo per far capire che non ci siamo inventati ieri io come dicevo sono geometra sono stato libero professionista per tanti anni sono geobiologo la distresista ma sono anche tecnico dell'ambiente quindi vi sto parlando una certa competenza esperienza alle spalle negli anni di attività come dicevo prima come geometra esperta in bioarchitettura ho insegnato anche a Limbar in Toscana in Emilia in Veneto e così via e come geobiologo ho notato che per fare una buona analisi energetica di un sito e in particolare di una casa non è sufficiente conoscere la qualità dei materiali e saper fare un buon rilievo geobiologico ma che ci sono altri aspetti io l'esperienza l'ho avuta questo è un episodio che non dimenticherò mai ero a Pisa in un vecchio borgo e fece tutti i miei rilievi geobiologici di trovare il posto ideale secondo me per il letto quando ho preso in mano lo strumento per misurare i campi elettromagnetici mi è andato alle stelle perché? perché avevo trovato una collocazione abbastanza vicino a un muro all'esterno di quel muro in quel vecchio borgo passava un cavo elettrico una volta sapete che li attaccavano agli edifici quindi cosa vuol dire questo? cosa mi ha insegnato questo? che non è sufficiente essere un buon geobiologo non è sufficiente conoscere i materiali ma intanto bisogna integrare sicuramente la conoscenza la misurazione dei campi elettromagnetici perché in quel caso avrei fatto in buona fede un atto che avrebbe fatto danno al mio cliente e poi da lì ho visto anche che è necessario lavorando in certe zone della penisola conoscere e vedere se c'è la presenza di radioattività di gas radon non in tutti i luoghi questo è presente ma in tutti gli edifici al piano terra in certe zone d'Italia questo problema lo vedremo abbastanza chiaro in più con la consulenza di un amico espertissimo in inquinamento indoor era un tossicologo che ha fatto esperienza a livello ha imparato e studiato queste cose in Inghilterra tanti anni fa visto quanto anche questo aspetto è importante poi mi è venuta la voglia di fare il feng shui non ne parlerò io in questi incontri mi parlerò una persona più esperta di me però anche quello può essere un grosso aiuto per collocare l'eventuale letto che noi possiamo andare a mettere quindi in questi anni di esperienza che è il discorso che abbiamo condiviso poi con Andrea e anche con Luca è quello di mettere insieme tutte queste cose perché allora solo in questa maniera tu guardi gli aspetti a 360 gradi di una problematica l'obiettivo del nostro corso come abbiamo condiviso è formare degli operatori professionali che siano in grado di analizzare gli aspetti presentati che siano in grado di offrire soluzioni consigli adeguati questo è il nostro obiettivo come già stato visto comunque nella presentazione veloce che abbiamo fatto io farò un escursus velocissimo delle cose di cui andremo a trattare perché poi le approfondiremo poi nel corso parliremo sicuramente di inquinamento elettromagnetico con osservazione a quello che sta all'esterno delle case con l'analisi e la conoscenza dei vari tipi di frequenze con cui ci andremo a confrontare dalle basse frequenze alle alte frequenze faremo comunque ovunque e all'interno delle lezioni anche un'analisi dell'aspetto della legge vigente perché è importante che chi va a confrontarsi conosca gli elementi di legge ma anche quelli che sono i valori che riteniamo più importanti noi tra virgolette per anche per la medicina dell'habitat per la bioarchitettura che a volte sono diversi da quelli che vengono fatti per legge perché risalgono anche studi che sono più indipendenti qui io mi diverso sempre a mettere in mostra questa cosa questa immagine quelli che vedete conficcati nel terreno sono dei normali tubi al neon sotto una linea elettrica che si illuminano autonomamente senza nessun tipo di collegamento questo rende visibile il famoso inquinamento invisibile che è misurabile ma non visibile continueremo dimmi dimmi Antenne telefonia mobile stavi andando è sempre più presente tra l'altro questa cosa tu sei partito nel 2003 oggi vediamo che la presenza di antenne in particolare di telecomunicazioni è un tema che tratto spesso anche con l'Anna Moore che è elettrosensibile ci sono molte persone che piano piano stanno scoprendo che sono elettrosensibili quindi è importantissimo anche dare delle soluzioni sì sì ma è quello che come tu sai Andrea è il nostro obiettivo cioè aiutare le persone a capire e a risolvere non ritiriamo fuori solo i problemi altrimenti sarebbe veramente complicata la cosa qui sono vari tipi di antenne questo è quello che succede all'esterno qui sono vari studi vedremo anche tutti gli effetti sulla salute con studi più o meno molto documentati ce ne sono veramente tanti se uno va a vedere la letteratura è enorme su questi campi io faccio sempre vedere questa immagine perché intanto fa capire quanto è assurdo dare i cellulari ai bambini piccoli vedete quanto è forte il livello di riscaldamento del cervello in un bambino piccolo rispetto a un adulto questa immagine è molto molto importante come ha detto Andrea faremo tutto un lavoro anche per insegnare a utilizzare tutta una serie di strumenti per la misurazione perché un professionista deve essere dotato comunque di strumentazione essere in grado di dare i dati oggettivi daremo comunque sempre delle soluzioni e dei consigli per tutto quello che troviamo all'interno delle delle abitazioni altra tematica fondamentale in certe zone d'Italia è l'analisi della presenza del radon o di eventuale radioattività dei materiali il radon rappresenta molti non lo sanno molti sottovalutano questo aspetto rappresenta la seconda causa di cancro al polmone quindi molto più pericoloso di quello che molti ritengono in Italia questa è una mappa interessante se ne sono altre che derivano dalle rilevazioni queste parti invece hanno una logica più geologica e se vedete ci sono alcune zone in particolare quelle che vanno dalla Toscana in giù quelle che guardano la Sardegna quelle che guardano tutto l'arco alpino nei quali la presenza di radon è estremamente diffusa chi vive lavora e farà rilievi in quelle zone dovrà tenerne conto per forza in Emilia Romagna per esempio il problema quasi non esiste nelle Marche nemmeno quindi sono delle zone che questo problema non lo hanno delle altre che invece hanno le problematiche molto 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 importanti quindi questo va tenuto conto anche qui insegneremo come rilevarle con diversi tipi di strumenti da quelli più semplici a quelli più complessi e anche qui entriamo invece quando parliamo di inquinamento indoor in un settore è abbastanza poco noto nel senso che noi siamo convinti che l'inquinamento sia fuori dalle case invece i carichi più grossi di inquinamento spesso sono dentro nelle case ci sono tutta una serie di studi questo è quello dell'EPA il più famoso il più conosciuto ma ci sono studi fatti in tutti i comuni molti comuni hanno fatto analisi di questo genere in scuole biblioteche magari visto che la maggior parte dell'inquinamento è molto maggiore all'interno delle abitazioni che fuori quindi noi pensiamo quando siamo in casa di essere sicuri da queste cose no non è così tant'è che poi vediamo che con tutta una serie di elementi che spiegheremo c'è stato un impressionante aumento dell'inquinamento all'interno delle case dal 1974 75 in poi osservate che è impennata avuto il livello di inquinamento da quel periodo in avanti qui è successo qualcosa spiegheremo che cosa è successo quali sono gli elementi che hanno modificato notevolmente il livello di inquinamento nelle nostre case questi sono tipo di inquinanti che noi andiamo a vedere anche questi li rileveremo a livello strumentale sono inquinanti chimici in particolare i VOC che sono formadei le benzene e così via quelli fisici che un po' li abbiamo già visti campi elettromagnetici e radon e anche una serie di piccole problematiche legate anche ad analisi di problematiche di inquinamento biologico ci sono strumenti che consentono di fare diverse di queste misure oggi la strumentazione è accessibile valida e anche diventata estremamente meno costosa della centralina che avevo acquistato io tanti anni fa poi arriviamo alla geobiologia che è un altro campo sconosciuto e più è quello che può rovinare comunque la salute tante persone quando dormono qui abbiamo già fatto un corso passato che sarà integrato all'interno di questo corso per chi non lo ha fatto e andremo a analizzare tutte le problematiche legate all'aspetto naturale quindi alle varie reti di interazione quelle gialle sono quelle di banker quelle rosse sono quelle di kurdi quelle verdi sono quelle di hardman andremo a vedere gli effetti dell'acqua delle faglie e andremo in questo caso a fare gli analisi proprio sugli effetti sull'uomo qui verrà insegnato come fare i test di compatibilità sulle persone qui per esempio io stavo insegnando a scuola e stavo mettendo gli studenti su un grosso segnale che vedete tracciato per terra e a loro ho fatto tutta una serie di test insegneremo le tecniche di rilievo anche se sono già state insegnate nel nel lavoro di geobiologia ma le insegneremo all'interno dell'abitazione che bisogna procedere in maniera un po' diversa all'interno delle case tutti i piccoli trucchi necessari per trovare le cose consigli tecniche di riequilibrio e suggerimenti come sempre l'aspetto pratico è fondamentale cioè noi dobbiamo andare in un luogo farli capire tranquillizzarli e mettere a posto questo è il nostro ruolo fondamentale qui un po' di conoscenza dell'energia dei materiali da costruzione attenzione sto parlando di energia non solo caratteristiche perché impareremo a capire che l'energia dei materiali si può misurare a livello scientifico con l'utilizzo di uno spettometro e di una firma spettrale qui lavoreremo soprattutto con delle tabelle di firme spettrali è molto interessante ci aiuta a capire proprio se un materiale ci dà energia o ce la toglie è un aspetto molto interessante che anche tantissimi tecnici del settore line non conoscono io diverse volte ho insegnato queste cose in corsi di bioarchitettura a colleghi anche di esperienza e quasi nessuno conosceva questa problematica che invece per me per il benessere è fondamentale qui siamo nel campo dell'acqua il campo di Andrea questo dove lui è un grosso specialista io ho già analizzato più volte queste cose soprattutto dal punto di vista chimico fisico partendo dal concetto che siamo il 70% siamo fatti d'acqua e quindi l'acqua che beviamo spesso non la valutiamo che importanza può avere siamo abituati a vedere il cibo vuoi risultare qualcosa Andrea so che qui tu sei dico solo che stiamo lavorando tantissimo ancora su questo argomento perché è veramente infinito però bisogna porre attenzione bisogna porre attenzione poi esistono come al solito strumenti misure e tecniche che ci permettono di avere l'acqua migliore che possiamo bere per noi allora io parlerò di analisi chimico fisiche biologiche però c'è anche un altro aspetto da vedere come Andrea insegna e questo si vede anche con strumenti si possono fare analisi chimiche ma si deve fare anche analisi vidrazionali energetiche perché è fondamentale questo dell'acqua dico bene Andrea? corretto ok e finiamo con il concetto del Feng Shui vogliamo far capire che il Feng Shui non è legato a degli oggetti ma è legato a dei concetti di conoscenza e di osservazione che sono legati alla natura io sono contento della collaborazione di Luca su questo aspetto perché lui conosce bene la geobiologia conosce bene tutti gli altri aspetti ma è un grande esperto di Feng Shui tra l'altro veniamo dallo stesso percorso di studi sul Feng Shui quindi sono contento che lo porti avanti a una persona esperta anche se in un periodo sei ore sono abbastanza poche però ci sarà quegli elementi indispensabili per poter capire cos'è il Feng Shui per cominciare e soprattutto anche per andare a capire come l'energia il Chi detto da chi ha studiato il Feng Shui si muove all'interno delle abitazioni delle case come migliorarlo eccetera quindi come migliorare l'energia e la veicolazione dell'energia all'interno delle abitazioni e impareremo anche a capire quali sono le tecniche i concetti per collocare nel miglior modo possibile con la scuola della forma il posto dove possiamo mettere l'ufficio la sedia il letto la poltrona nella quale vogliamo metterci questo perché è indispensabile a conoscere alcuni concetti fondamentali però non puoi fare il Feng Shui serio se non conosci la geobiologia e se non sai com'è il contorno dell'ambiente quindi tutte queste cose che vi ho fatto vedere che sembrano separate invece sono un unicum che ci consente di guardare un pochino al meglio l'insieme per dare soluzioni eccetera se non mettiamo insieme tutto corriamo i rischi in buona fede di fare stare male le persone esempio la mia esperienza di Pisa e alla fine io come tecnico vedo indispensabile insegnare alle persone che faranno il corso anche come dedigere una relazione mettere insieme i dati e anche Andrea questo lo fa da sempre con l'elettrocultura e abbiamo condiviso l'idea che sia fondamentale questo aspetto io concluderei lasciando a te Andrea la conclusione bene grazie quindi inizio a giugno ancora la data da definire la sera comunque un mercoledì un giovedì ad esempio online pausa ad agosto poi si fa luglio settembre ottobre novembre perché comunque gli incontri sono 18 quindi 18 incontri online e all'interno di questi bisognerà studiare la geobiologia ci saranno anche i test come abbiamo detto verso dicembre si farà un weekend di pratica ci sarà l'esame ci sarà il test online con il rilascio appunto dell'attestato di esperto in salute dell'habitat e all'interno del percorso come dicevamo è incluso tutto il tema di geobiologia che ha un grande valore con anche l'attestato la possibilità poi di fare i test se passate ovviamente ma tutti gli studenti ce la possono fare ce l'hanno fatta tutti quindi devo dire che li abbiamo sempre seguiti molto bene bene grazie a tutti